E allora eccolo qua, guarda qua quasi quanto cazzo è figo C'è un'oricione di gente passesca che poi guarda qua ogni cosa è animata, è fighissima l'animazione Io lascerei così per sempre, guarda qua quanto cazzo è bello Passesca, passesca Incredibile, Goku Super Saiyan, vabbè Super Settiere, Battle of Wits, Ki più 3 HP attacca di F200 Quindi potremmo fare anche un doppio Goku, a provare in realtà Special 12, Racer Attack e Def per un turno, Colossal Damage e Lower Def Racer Attack e Def per un turno, non è incredibile Racer Nella 18, Mega Colossal Damage, Racer Super Class Alias Attack del 50% per un turno Va benissimo Passive, Ki più 5 attacca di F150 Super Class Ki più 2 def 50, risultato ricevuto del 30 Dice un'attacca di Def più 15, per ogni attacco ricevuto avrò un massimo di 75 Quindi dopo 5 attacchi subiti allo stack massimo Ki più 2 dall'inizio del turno in cui riceve il quinto attacco Guarda la special nemica dal turno dopo in cui riceve 10 attacchi Un additional attacco più 50, lancia un additional special Quando l'active skill è attivato, quando la special è in 24 Ok, quindi riceve 10 attacchi sto con Ok, vi ricordo Active resist e attacco temporaneamente, causa ultimate damage Ogni attacco è critato e Ki più 5 a tutti gli alleati Si attiva dopo che ho ricevuto 10 o più attacchi dall'inizio della battaglia Dopo che sono passati almeno 5 turni Allora, devo mettere i Gona a ruotare Perché devo fare la tornazione con Gow Qua piccoli Gona si buffano Spero mi faccia tutti gli attacchi alla fine All'inizio Orko 2, Gona comunque si Se non passano un paio di turni Altro che cazzo che prendo No, Goku Non ci stiamo capendo Deve rimanere in vita, Broly Cioè, in realtà se l'ho shotto dopo Il problema è che la fase dopo è AGL Ma è AGL? E Goku non credo ci fatta molto d'accordo Olè, Gona a GL Olè, numeri Prende danni pure con colori di vantaggio Allora, prendiamo un attacco Si è spiegato il gioco Facciamo così Cioè, per il momento abbiamo 2,50 Un attacco Ne devi prendere altri 9 9,2 Per aver fatto solo un attacco Cioè, aver subito solo un attacco Ma è coglioni Cioè, già 10 milioni dopo il primo attacco E non c'era manco il buff in turno Ah, era Tech Mi sono dimenticato io Ok, facciamo così Vediamo un po' Provo, abbiamo Gohan Che poi pure andranno attivando tutti i link Non credo cambi tantissimo Piuttosto, fresco, metto un buffer Piuttosto che mette Goan a GL Capisci bene che Goan a GL Tutto è tranne un personaggio giocavo Però comunque, visto che è il best link Che fai? De ne privi E non finisci Broly con Goan a GL Eh, no che non dei primi Qua nel cilio Io quando vedo se No, non risuscita dalle ceneri Allora, vediamo un pochettino Tutti i link cattivi 2,88 Peccato che probabilmente non vedremo la special O se la vedremo faremo una brutta fine Quindi Quanto c'ha di Def Goan? Se Goan prende un pugno e implode Facciamo così Non vado in 24 Quindi non c'ha lad L'idea me lo uso per Goan Sì Io non è che mi fido Dopo sti due attacchi Se non muore Sto a 3 8 milioni Va bene Cioè che Bardak baffava 1 1 Come di un attimo Io già mi sono dimenticato Sicuro Allora Bardak ce l'ho qua No, si autobot Ci sta cavando un cazzo Ah no Quello c'ha il 50% di attacco in più Con la 24 Ecco perché prima mi ha caricato tutto quello Ok Niente buff Quindi lui Non buffer Primo turno Ti carica pure quasi 10 milioni Davvero Mi pare un po' Un po' eccessivo Ok Ma su cazzi proprio Giganteschi Enormi Baffiamoci Bardak C'ho Draghetto Draghetto basterà Ma assolutamente no Così il turno Dopo vediamo Poi quando subì Proprio è Subì 10 attacchi Quando mi subisco 10 attacchi Già ho finito la venda Bardak Bardakon Eh Andrea Tante belle cose La LR esce domani Sul gioco 8 e 8 Ma mia Quel Bardak Mazzesco Va bene Io spero che dopo Mi faccia Un po' Di attacchi All'inizio C'è che manco i primi 5 attacchi Tra poco ho subito con quel go Ma in sto team Non ce l'ho Il buffer Mi pare Lo senza buffer Oddio in realtà Bardak fisico Non mi ricordo C'è buffato meno Allora Quanto c'ha di def adesso? 363 E ha subito 3 attacchi E la 24 Comunque non riesco a fare Oh mamma Ah Chi più 2 lo prende Dopo che ha ricevuto Il quinto attacco Quindi in realtà Sì adesso Io non ho item attivi Però ho un go Che è a gel Quindi pure un eventuale Special away Non credo mi faccia troppo Spero 1 1 Chi più 2 Perfetto 16 milioni Lo buffer Oddio Oddio Alzo le mani Ricordiamo che c'è pure il 30% di DR Sto cosa Non è che tu dici Vabbè Mi fa tanti danni Ma non tanca Il cazzo Il cazzo Vabbè Eh Gigi Che ti vuoi dire a questo? Niente Allora io qua non mi fido Più inoltre se prendo special Come primo colpo Quindi Sneak Ti vediamo anche il turno dopo Cioè il bello di sto coi Il bello Sarebbe bello Prendere dieci attacchi Il problema è che Non ce la fai Ah C'ha prendere dieci attacchi Che è già morto Broly Meno male Che ho attivato Vabbè In realtà C'aveva la guardia attiva Però Immaginate se Quello primo colpo Era una special Era già esploso Sembra un custom Anzi Custom Manco li fanno così Broken Fidati 16 milioni No buffer Che poi In un team Più Semplice Perché qua Sono tutti full hub Quindi ci sta Che sto velocizzando di molto Ma tu Calcono che sono Bardak free Un Gone free E tutto Che fanno meno danni Ce l'hai il tempo Per sé da parto Poi Naturalmente Stiamo sempre parlando Di un go Quell'r Full hub Ma ability free Che a posti di 16 milioni De ne carica 10 11 Per essere free Dio cristo Ma poi c'ha tutto C'ha Si autobuffa E C'ha L'active C'ha Che cazzo Demage d'action Non mi ricordo C'ha il crit Guarda la special Vabbè Se le sofficini C'ha il crit Non c'era Gli mancava solo Un super efficace A un crit Poi era Completo Colezza Quando avrà lezza Un giorno Gli daranno quella Per ride Ok Vediamo sto turno Ma 438 mila def Con 30% di dr Che ricordo poi Post special Sia 12 Che 18 C'ha resi Saltac and def Se c'ha la 24 ki O l'eventuale active Che però per attivare L'active 10 attacchi Dobbiamo fare un'altra rampa E forza C'ha il 50% di buff Lancia 2 special Con un eventuale Abilità di 3 Con resist attack and def E 30% di dr Vabbè Sto cosa è un mostro È un animale Sto cosa Però io giustamente Le mie orbo Fanno cacare al cazzo Quindi facciamo così Quanti attacchi Quanti attacchi subisco 1 2 3 4 5 attacchi Attenzione E qua Sai che sarebbe da fare Devo cercare di installare Se Goku Non l'ho shotta Broly Riusciamo a vedere Anche 10 Perché poi il tiro Dopo schippo Al massimo Gon con un 75% di dr Ce la fai Attenca Spero di si Vediamo Io dopo So curioso Mette anche un buffer Mamma mia Mostro Grazie il 75% di dr Mamma mia Ok Quanto carica 16 e 2 16 e 2 Il valore fisso Con tutti gli incattivi Senza buffer Buttaci un Kid Bu Qui dentro Così per il meme Brava brava Non crità Non crità 2 Potrebbe lanciare Anche una terza special Vedete adesso Sta oltre i 600.000 def Tipo con 30% di dr Vado gli avessero dato Pure più dr Era veramente La lr più rotta del gioco Propriamente 30% di dr Se non hai nata ability Alta La def non è Altissimo Tipo 50% di dr E poi ti svegliavi Tutto sudato Ok Goku dovrebbe essere Se sei tappato al massimo Quindi dal turno Dopo in poi Non so se calcola anche il turno Dove lui non è presente Quindi dal turno prossimo Se vediamo la special Vuol dire che te la fa vedere Pure quando non è in turno Però credo che no Quando sono in turno Vedete? Credo di sì Allora Noi qua non dovremmo fare danno Quindi Vabbè io qua c'ho tutto attivo Cerchiamo di prendere Poké orbo con Con Bardak se riesco Sì Speriamo di non Shot out Oh Dove si fa Fatti post Ability free post special Tanca per carità Non ti fa Tanca special di Broly Ma perché Colone di vantaggio Broly Come giusto che sia Però fosse stato Deck Avrebbe tankata Con la death E il damage Ad action Che si ritrovava Peccato perché Gli hanno messo Non so Pure chance Di attivare la guardia Giusto perché Era poco rotta Io l'avrei messo Il turno dopo Allora Il turno dopo Vediamo special Possiamo tirare active Io ma sono curioso Vedete pure quando Tira di active Sarà una special Normale di caricare Quei 4-5 unioni Crittati Vediamo Eccolo qua Ah vedi Ti fa vedere special Comunissimo 438.000 death E il buff massimo Senza buffer C'è lo skip Mi pare di più Proviamo lo skip Vai For the content For the meme Megoglioni Zii Megoglioni 10 milioni De special Megoglioni Allora Io non uso L'item Non Credo Riesca a tancare La special Di broli Cioè Deve prendere Meno di 600.000 Purtroppo Non è post special Quindi non Post special Ovviamente L'avrebbe Tanchicchiato Avrebbe preso 200.000 300.000 Io testare Con un 30% Di dr Non lo butterei via Mal che vada Moriamo Però comunque Sti cazzi Vediamo I bunni Vabbè Non è un problema Se prende Mezzo milione È accettabile Non prende Mezzo milione Post special Stavamo sotto Il mezzo milione Probabilmente Vabbè Vabbè Era un test Era un test Eccolo Signore È il momento Quello che abbiamo Tanto aspettato Difesa 500.000 Ok Abbiamo la 24 Questo è il best Best Tutti rin cattivi 50% di buff Se non mi carichi 20 milioni Mi incazzo Vabbè Grinning Ma lì era Normale Vabbè Tu lo trovi In singola Vai Il turno Col buffer Pazzesco No Per 500.000 Non carica 20 milioni No Scam Comunque Sta sui 20 milioni Col buffer C'è una 12 Kida 13 milioni Vabbè No Non senza Si Non senza Cioè Questo ti potete Tirare In totale potrebbe Caricare Quasi 50 milioni Di danno C'è sto capito per dire Carichiamo due danni